Carissimi amici, l'ardicola Ruzzutotto si arricchisce di un altro momento dedicato al Palermo Calcio. Come sapete, seguiremo il campionato di calcio e ogni, diciamo, dopo partita, commenteremo attraverso pagelle e anche curiosità, scusate per la voce ma sono reduce di un allenamento del Palermo, ma bella signora, come sempre alla Totò Borgese, con un italiano molto fine, raffinato, forbito, limpido, terzo, chiaro, cercherò di dare le mie impressioni sulla partita del Palermo Calcio e ogni tanto ci metto la regola, la mononavota, se è bella ghiacciata, ma mangio, mi dispiace per quelle che parlano italiano raffinato, è meschina però, perché le vedo tutte sofistici, ma noi non iniziamo a fottere, l'importante è che lei condivide, cioè col ditino pigia e noi faremo sapere in tutto il mondo attraverso il web quello che succede a Palermo con il calcio. Devo dirvi che sono contento di questo nuovo acquisto che il cugino di Gelaidino ha trovato, l'hanno trovato a poco prezzo e si chiama Gelaidino, che poi non capisco, ragazzi, io ho letto tante battute su Gelaidino, ce ne sono alcune che mi sono piaciute, per carità, perché per esempio molti si lamentano, diciamo, è bravo questo calciatore, signore, che questo fa il gollo di testa, di piede, di mano, è un giocatore completo, dice, certo, però, e se poi uno fa il gollo in un incontro, lei ci dice, quale amano che devono taccare la palla, chissà? Dammi la volta, auguri, ma state certo che Gelaidino ci farà fare delle belle figure, perché che c'è uno zecco, mia, ad entrare una palla non la lascia, sta 89 minuti senza fare niente, ma se gli capita la palla giusta, ci fai il golletto, e poi a proposito di Belotta, ancora c'è una discussione, signore, io io buscherò 850 mila euro contro i 250 mila del Palermo, lei che fa? Ci avessi avuto paura? Ecco perché deve condividere, ammaccare, allora, sappiate che ogni settimana vi farò un clipino, già, sono vissuto il Palermo, Zampa, è spiano le quattro piccole, che facciamo? Tammo, c'è, bene, dice che adesso deve comprare un'altra punta, sarebbe bisogno che punta ce l'hai, che c'è Rufreggers, bene, a tutti voi una felice settimana, speriamo bene, comincia questa grande avventura, dice ma come si chiama questo clipino che le farà? I popolari, sì, perché io sono nazional popolare, mi vanto di esserlo, a discapito di quanti pensano di essere nata e buona centrale, c'è buona vips, bene, sì, ammaccare, no, allora io non ve ne faccio più di queste qua, che ci mettete mi piace, mi fa piacere, lo dice la stessa parola, però voglio che voi, dopo aver visto questo clipino, ci mettete, condividete, perché se condividete, lo mettete nella vostra bacheca, noi lo mandiamo in tutta Europa, in tutto il mondo, dove ci sono i palermitani, i quali non vogliono sentire parlare tutto vips, signora, no, i palermitani vogliono sentire parlare tutto scatò, terraiolo, ecco perché io mi avvicino di più a loro, ancora una poca che non l'hanno caputo, ci sono scusso, bene, vi aspetto con il Palermo, i popolari, e come sempre diciamo, forza Palermo, sempre, a prescindere, Zamparini, o no Zamparini, Iachino, mi raccomando, no, un po' c'è una paetta da bella settemata, per il momento che ho la potere, ci vediamo al dopo partita del Palermo, a macca, signora, no, loro non hanno fatto niente, signora, va bene, ci scrive, mi piace, e poi ci scrive, tu condividi, e lo fa macca, qui, tu, se scanta papapola, se ne fottesse, grazie ancora una volta, vi voglio un saluto, anzi, ringrazio tutti gli amici di Facebook, che hanno fatto, per esempio, l'ultimo abbiamo fatto, 5.000 visualizzazioni, 200 condivisioni, ma dobbiamo essere sempre di più, signora, quindi ogni settimana, dedicheremo un clippino al Palermo Calcio, ma va bene, c'è il bianco, a poi t'apparlo io, va bene? Sì, signora, va a parlare, poi tu io, non si preoccupa, che fa? Esatto, vi voglio con salute.